Sor Laura Girotto, missionaria salesiana da quasi 50 anni, da 24 in Etiopia ad Adwa, dove ha realizzato una missione che è un vero e proprio miracolo, mamma di tutte le mamme dei bimbi che ha salvato e che ha aiutato a venire al mondo. Lei come si presenterebbe? Sor Laura Salesiana, missionaria nella Chiesa del Buon Dio. La ragazza però voleva fare la stilista e per un po' l'ha anche fatto, poi cos'è successo? Sì, diciamo che la mia grande passione, il mio grande interesse era la moda in effetti, tant'è che quando ho manifestato il desiderio di entrare in convento nessuno ci credeva, però è stato proprio il momento di scegliere tra la carriera che si prometteva ma abbastanza brillante e invece la chiamata del Buon Dio, diciamo che ha prevalso sul grande interesse e il grande amore. Facciamo così, io vorrei iniziare questo racconto su questa missione straordinaria in Etiopia attraverso una storia o più storie che secondo lei sono particolarmente rappresentative e significative e che comunque l'hanno in qualche modo anche segnata. Mi hai chiesto come mi definirei e come mi sento, mi sono sentita andando in Etiopia che è l'ultima delle mie missioni, ne ho avute parecchie precedenti. Ho incontrato una donna molto malata con la sua creatura di 5 mesi, tutte e due malate di polmonite sotto un ponte, acquazzoni terribili e la mamma è guarita abbastanza in fretta, la creatura faceva più fatica e ricordo che un giorno stavo curando la piccola e la mamma mi ferma la mano, stavo facendo un'iniezione, mi guarda e mi dice Dio ha guardato giù, ha visto il mio dolore e ha mandato Te. Devo dire che in quel momento ho capito la mia vocazione missionaria di essere stata mandata, in quel momento che era difficilissimo perché erano gli inizi, non avevamo casa, non avevamo denaro, non sapevamo da che parte cominciare. Parlo al plurale ma in effetti ero ancora sola. E' stata la conferma che il buon Dio mi voleva lì come missionaria. Tutto inizia in una tenda, una tenda militare, una tenda blu, dove lei passa la sua prima notte ad Addua, intorno a lei il nulla, al mattino il risveglio e che cosa succede poi? Sai, il risveglio seguito a una notte d'incubo. Immagino. Sì, perché proprio per consolarmi chiudevo gli occhi e immaginavo il mappamondo e su quel puntino dove c'era scritto Addua dicevo sono lì e qualcuno sa che ci sono, però la mattina ecco mi apro gli occhi e esco, vedo il nulla. e mi sono chiesta ma da che parte comincio, non sapevo proprio, non avevo più pali d'idea nonostante mi considerassi un vecchio lupo di mare come in quanto missionaria, avevo quasi 50 anni e quindi, ma poi sai quello che mi salvò furono i bambini, guarda caso per una salesiana i bambini, che fecero capannello intorno alla tenda e uno di loro mi prese per mano e mi sorrise. e lì ho cominciato tutto, un piccolo oratorio senza sapere una parola della lingua, con poche cose che avevo perché le mie cose non erano neanche ancora arrivate, avevo una velligetta di 24 ore, feci una palla con un asciugamano perché i bambini potessero giocare, i maschietti e le bambine che avevano i fratellini sulle spalle nonostante fossero piccolissime anche loro, 5-6 anni, giovanissime, misero i pupi per terra e io tirai fuori il piccolo kit da viaggio di cucito e cominciai a far vedere che questo è un ago perché aveva tutto strappato, il filo, e cominciai a cucire con loro gli strappi che avevano e poi i maschietti giocavano al pallone, alla palla con quegli straccetti che avevamo fatto diventare palla e le bambine invece lavoravano, allora ho detto non è possibile, non è giusto questa discriminazione e quindi cercavo una corda, ma cercare l'impossibile, le bambine mi presero per mano, mi portarono vicino a un albero una pianta di agave gigante, tagliarono le foglie, le sbatterono contro una roccia, ricavandone i filamenti e con i filamenti intrecciarono una corda e me la diedero senza capire perché io volessi una corda allora insegnai loro a saltare la corda da lì iniziarono già a capire che in qualche modo stava nascendo anche il loro riscatto probabilmente assolutamente sì, in effetti oggi in quella grande città che tu chiami miracolo, è un miracolo ma il 70% sono donne, bambine, femmine di strada ne è stata fatta tanta, di strada ne è stata fatta tanta e oggi appunto sono passati 24 anni e la missione è cresciuta fino a diventare una vera e propria impresa sociale conta circa 200 dipendenti 236 236, una vera e propria impresa una cittadella dove c'è un asilo nido, scuola materna, scuola elementare, liceo, scuola superiore 1500 bambini, un centro per la promozione della donna, un progetto di assistenza alle famiglie una serra, una stalla, un ospedale in costruzione procediamo per ordine, cominciamo dai bambini e i bambini sono stati i miei primi salvatori, quindi i primi interlocutori poi per una solesiana si comincia sempre di lì anche perché sono l'apertura verso le famiglie coi bambini riesci a raggiungere prima, in quel caso erano le mamme, i papà erano e sono tuttora una merce rara e quindi poter coinvolgere e entrare nel tessuto sociale è più importante e quindi coi bambini appunto abbiamo cominciato con loro a curarli e le mamme sono venute abbiamo cominciato appunto a vedere la necessità di un corso di promozione della donna ma parallelamente è la necessità di aprire un qualcosa di regolare per i bambini che dovevano lasciare le mamme libere di imparare e quindi ecco la prima sezione di nido che è diventata poi scuola materna e poi quella classe pilota nido scuola materna è diventata prima elementare e seconda elementare all'inizio addirittura in container perché non avevamo assolutamente le costruzioni ma sono i ricordi più belli che abbiamo in effetti perché è stato proprio uno crescere insieme con la popolazione un costruire insieme un qualcosa che è stato pensato per loro che resterà per sempre per loro i bambini sono la vocazione naturale anche del carisma salesiano assolutamente un'attenzione particolare però come anche prima accennava è data alle donne che sono le più discriminate lì no? assolutamente non solo come salesiana ma proprio come donna e come missionaria l'Africa vede le donne ancora in una situazione veramente molto precaria molto discriminata in Etiopia poi è veramente molto difficile quindi l'attenzione alla donna perché alla fine poi la società appoggia sulle spalle delle donne e un poeta diceva sul respiro dei bambini quindi lavorare per loro vuol dire davvero mettere fondamenta solide per la società siamo passati anche attraverso una guerra non solo quella post dittatura venghisto ma quella con l'Eritrea che ha fatto centinaia di migliaia di morti e sono rimaste solo le donne quando è ora? gli uomini partono e combattono e distruggono la vita le donne restano e la vita la proteggono e la conservano e sono la sicurezza del futuro adesso c'è un progetto importante in corso quasi finito che è la costruzione di questo ospedale che permetterà di dare le cure necessarie poi a tutte queste persone sì ti dirò che in questi anni guarda la scelta dell'ospedale è stata una scelta quasi di disperazione perché evidentemente come salesiana ci siamo buttate sull'educazione come strada maestra per il riscatto da questa forma di povertà e miseria che sono veramente spaventose però camminando ci siamo rese conto di aver perso in vent'anni il 13% di bambini e mamme per patologie assolutamente assurde che qui in Italia si sarebbero curate a livello ambulatoriale addirittura domiciliare e quindi abbiamo detto basta io mi sono stufata di fare anche la becchina mettere sotto terra bambini perché tra l'altro a noi essendo suore ci chiamano le vergini del Don Bosco gli uomini permettono di entrare nel cimitero e seppellire queste creaturine cosa che neanche le mamme possono fare quindi a noi il privilegio di poterli seppellire però è uno strazio tale e ne ho seppelliti talmente tanti per cui abbiamo detto basta ci vuole un ospedale il sistema educativo di Don Bosco è basato sulla prevenzione e prevenzione non solo verso i pericoli che la gioventù può incontrare ma per noi significava prevenzione che investe tutta la persona anche la salute quindi prevenire queste morti inutili che erano proprio e sono una strage degli innocenti quindi benché non sia il nostro carisma di Salesiane abbiamo detto dobbiamo farlo e abbiamo iniziato questo ospedale adesso dovrebbe rispondere almeno alle emergenze più grandi della salute evitare appunto queste morti assurde e poi poco per volta daremo risposte anche alle patologie più serie che comunque falciano la popolazione si accusa la popolazione africana di fare troppi figli il discorso è che sì ne vengono tanti al mondo ma ne muoiono la maggioranza prima addirittura dell'età scolastica e non parliamo dell'età lavorativa il 3% arriva in età adulta e quindi questo non è più accettabile in un mondo globalizzato a solo 6 ore di distanza da dove noi ci stiamo parlando la città di Adwa si trova nella regione del Tigre al nord dell'Etiopia al confine tra Sudan e Deritrea una zona tra le più depresse tra le più difficili nella sua missione nella nascita e nella crescita anche di questa missione ci sono state delle resistenze delle difficoltà immagino non da parte della popolazione devi sapere che Adwa è ad appena 20 km da Axum la città santa dell'ortodossia etiope, copta come dire siamo a 20 km dalla Mecca per i musulmani e quindi ci sono state grandissime resistenze e vere problematiche create dai preti ortodossi all'inizio addirittura mandarono squadracce di giovinastri anche a picchiarci perché dicevano i diavoli bianchi sono venuti a intaccare la purezza della nostra fede noi avevamo tutto meno che l'intenzione di cominciare a predicare e convertire ci siamo presi curi delle persone senza chiedere la tessera di appartenenza a quale religione e tuttora è così diciamo che l'approccio missionario oggi è evangelizzare vivendo anche annunciando eventualmente ma dimostrare nella vita di tutti i giorni che cosa vuol dire essere seguaci di Cristo quindi le problematiche più grandi sono state quelle quello di farci accettare dal contesto culturale e religioso oggi devo dire ed è recente questa svolta di un mese e mezzo fa il numero due del patriarca di Axum che è la sede proprio principale è venuto a dirmi che loro si erano sbagliati che vent'anni fa venticinque anni fa pensavano che noi saremmo stati degli ostacoli un problema problemi per loro e invece sono resi conto che siamo lì con le stesse intenzioni di servire la popolazione e che quindi erano onorati di continuare a lavorare con noi anche perché noi abbiamo sempre cercato di coinvolgerli in tutte le cose che facevamo quindi siamo a sei ore di distanza di aereo lei ci tiene so che ci tiene a sottolineare una differenza sostanziale perché noi qui parliamo di di povertà sentiamo parlare di povertà lei invece più volte ha detto non è povertà è miseria c'è una differenza sai è sempre il termine di paragone che fa la differenza la povertà in Europa e in Italia è sempre paragonata in paragone al livello di vita a cui si è abituati quindi anche se vivere sotto il livello della povertà in Italia è molto diverso da quello che può significare in Etiopia perché la differenza tra povertà e miseria è che la miseria ti fa morire la fame ti uccide non così figurativamente letteralmente queste braccia hanno visto morire troppi bambini sani ma morti per fame perché la fame è un killer spietato che è più più violento di qualsiasi malattia quindi ti sconvolge appunto a sei ore di distanza nonostante tutti i proclami che si siano fatti sulla sconfitta della fame dell'ignoranza della malattia a sei ore si muore ancora e questo è dovuto alla miseria si muore ancora non solo per malattie che sarebbero curabili ma si muore per mancanza di acqua e di cibo una settimana di biberon per un neonato in Etiopia è l'equivalente di un pacchetto di sigarette e io mi chiedo se qui si muore perché non si può fumare e quindi sono paragoni che non sono neanche comprensibili per noi ci mancano le categorie mentali io stessa dopo anni e anni di vita missionaria quando sono arrivata ad Adu ho passato un anno intero in totale disorientamento perché una miseria così non l'avevo vista mai neanche in India e quindi ripeto tanto più a noi europei le categorie mentali non mancano c'è però un esempio che ci aiuta a capire forse un po' meglio lei ha detto che con un euro al giorno voi riuscite a mantenere un bambino lo curate lo vestite gli date da mangiare lo mandate a scuola un euro al giorno riuscite a fare tutte queste cose per un bambino se i missionari avessero un po' più di soldi ribalterebbero il destino di un paese intero mi viene da pensare ribalterebbero e cancellerebbero la parola terzo mondo perché io ebbi occasione di parlare anche con Mattarella in un incontro che avemmo e gli dissi che gli chiesi che cosa spendeva il governo italiano per questi migranti che arrivano e che fanno tanta storia sui nostri giornali e danno tanto spazio a una certa forma di populismo mi disse 80 euro al giorno per un minore non accompagnato 35 per ogni adulto che arriva vivo sulle nostre coste e io gli portai proprio l'esempio io con un euro al giorno mantengo un bambino e lo mando a scuola eccetera eccetera se lei mi dà 35 euro o 80 per ogni minore noi le ribaltiamo l'Africa e vi scordate del problema di questi migranti non solo ma aggiunga signor presidente il denaro speso per pattugliare i mari con le navi e con gli aerei seppellire i morti che si ripescano rimandare indietro i migranti che vengono rispediti al mittente e sovvenzionare i centri di raccolta che sono gestiti in maniera totalmente sbagliata ecco allora davvero noi risolveremo il problema voi cercate giustamente di creare sul posto le condizioni per dare a queste persone un futuro dignitoso lei è lì però e sa bene perché tanti scappano per arrivare qui rischiando anche di non arrivare mai allora da lì come vede l'atteggiamento in generale dell'Occidente sul fenomeno dell'immigrazione guarda hai detto giustamente io sono lì e vedo perché scappano perché io fossi una mamma locale con la mia creatura che se sto lì sicuramente muore tenterei il tutto per tutto salto su un barcone al massimo muoio e vado giù a fondo morire per morire non fa nessuna differenza se però c'è quella possibilità su un milione che arrivando magari a Lampedusa me la curino io ci provo sull'atteggiamento dell'Occidente devo dire che anche qui si fanno a volte delle esagerazioni nel senso che una certa fetta dichiara di essere totalmente contro bisogna rimandarli a casa addirittura qualcuno dice spariamo sui barconi affondiamoli chi se ne importa se negano mentre c'è questa è un'esasperazione c'è una grossa fetta di popolazione italiana devo dire noi siamo dei buoni nonostante i problemi che ci sono qui e sui quali non si può chiudere gli occhi sono reali si riesce ancora a trovare della grossa solidarietà la mia missione ne è l'esempio è stata costruita e sopravvive grazie a queste persone che non fanno storia ci sono delle sacche di generosità guarda io sono qui a San Giovanni Rotondo e ho portato tre della mia gente qui all'ospedale di Padre Pio devo dire non so se posso fare il nome ma il dottor Crupi il dottor Chiarelli i vari medici dell'ospedale ma tutte le volte che io chiedo aiuto e soccorso mi dicono vieni e mi mandano subito la lettera per avere i visti dall'ambasciata eccetera eccetera e curano questi miei pazienti con un affetto direi una dose extra large di cura di attenzione di simpatia quindi c'è appunto questa dicotomia gli estremisti che dicono buttiamoli fuori chi se ne importa dal resto del mondo e invece queste sacche che sono poi la realtà vera di quello che siamo noi in Italia quindi devo dire che la reazione più che fa più impressione è quella negativa ma la realtà è quella positiva i buoni vincono sempre quanti bimbi ha fatto venire al mondo? ho perso il conto credo parecchie centinaia e quanti ne ha visti morire invece? troppi e dopo ricominciare com'è? è uno strazio perché però è anche una quelle morti inutili che ti spaccano il cuore ogni volta perché ognuno è un figlio unico che se ne va ti dà anche una carica di volontà una quasi rabbia perché queste cose non devono più succedere non è più possibile ci si sente tutti colpevoli noi quando ci muore una di queste creature l'ultimo è Francesco 29 giorni l'abbiamo fatto morire cullandolo e l'abbiamo messo davanti all'altare tutta la notte è una vittima anche nostra Amici di Addua è l'associazione nata intorno alla sua missione chi sono gli amici di Addua? gli amici di Addua sono un'altra di quelle spiagge di generosità equivalenti qui all'ospedale sollievo della sofferenza sono tanti gli amici di Addua tanti sono nati da un piccolissimo gruppo di amici della famiglia e adesso sono veramente tanti direi che siamo a livello nazionale si sono moltiplicati piccoli gruppi sono nati a cento di Ferrara ma si sono moltiplicati ti basti dire che il gruppo di medici volontari disponibili a venire a lavorare al nostro ospedale sono 117 da tutta Italia gli amici di Addua sono quelli che ci hanno costruito la missione insieme con tantissimi altri sostenitori ma lo zoccolo duro sono loro e una fedeltà a un progetto negli anni è quello che fa la differenza per il successo di un progetto perché la missione di Addua deve continuare nel tempo non perché ci siamo noi ma perché noi dobbiamo preparare la gente del posto perché se la gestisca noi dobbiamo renderci inutili dobbiamo passarla a loro in modo che duri per le generazioni anche future allora noi vi auguriamo di diventare inutili un giorno vi auguriamo che la missione di Addua possa davvero sempre crescere di più e insieme a lei che possano crescere tutti i cittadini tutte le donne tutti i bambini di quella regione e non solo la ringraziamo Sor Laura per aver risposto alle nostre domande e per aver portato la sua preziosa testimonianza grazie mille grazie a voi per avermi chiamata grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi